Un disegno per papà Via via! Papà, sai, ieri sera... Scusami, Bluey, ma devo correre. Ho un impegno e sono in ritardo. Ma... Povero papà. Ehi, mi ha venuto un'idea. Ultimamente papà è sempre di corsa, poverino. Che ne dici se rifacciamo un bel disegno? Sì, sono proprio d'accordo. Ehi, mamma! Sì, Bluey, dimmi. Io e Bingo vorremmo fare un bel disegno per papà. Oh, ne sarà felice. Ora vi preparo tutto. Sì! Bene, qui avete tutto l'occorrente. Cosa volete disegnare? Il papà, naturalmente. Bene, allora. Buon lavoro e mi raccomando. Attenti a non rovesciare l'acqua. Certo, mamma. Io vado a pulire le camere. Ci vediamo più tardi. Ok. Allora. Guarda qui. Wow, Bluey! Molto carino! Sì, ma adesso mi serve un altro colore. Oh, oh! Che guaio! Un disastro. Vado a chiedere aiuto alla mamma. Sì, pronto. Oh, ciao! Mamma! Sì, sì, certo. Vabbè, farò da sola. La mamma è impegnata. Eccomi. Dov'è la mamma? La mamma è al telefono, quindi dovremmo arrangiarci. Non so se è una buona idea. Allora, adesso proviamo con quell'acqua e questo colore. Vado a controllare quelle due. Oh, mamma! Bingo! Bluey! Che avete combinato? Visto, mamma, abbiamo dipinto tutta la cugina. Non è fantastico? Bluey e Bingo erano soddisfatte del loro lavoro. Ma la mamma non era molto d'accordo. Visto, mamma, abbiamo dipinto tutta la cugina.